Buonasera a tutti, vorrei parlarvi di due questioni interessanti che sono uscite oggi sui media. La prima riguarda le Nazioni Unite e il famoso voto per il Global Compact a Marrakesh, dove il governo italiano ha deciso giustamente di non partecipare. Perché dico questo? Perché secondo me dobbiamo uscire dalle Nazioni Unite. E perché dobbiamo uscire dalle Nazioni Unite? E quindi dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale, da tutte quelle agenzie che finiscono per influire pesantemente sulla sovranità del nostro Paese attraverso la normativa come l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che decide quante radiazioni nucleari possiamo assorbire e quanti morti ci possono essere prima che vengano intaccati gli interessi delle industrie del nucleare. Non per un motivo politico particolare di orientamento destra-sinistra, no. Dobbiamo uscire dalle Nazioni Unite per un motivo costituzionale. Perché l'articolo 11 della Costituzione prevede che l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. Ora, come vedete inquadrato nel video, c'è una pagina di Wikipedia che parla della cosiddetta clausola di Stato nemico delle Nazioni Unite. La clausola dello Stato nemico è un passaggio dell'articolo 53 e 107 e di una mezza frase dell'articolo 77 della Carta delle Nazioni Unite. Questa clausola quindi identifica come nazioni nemiche quelle che hanno perso la Seconda Guerra Mondiale, le quali dovranno affrontare le conseguenze di un comportamento aggressivo degli altri stati e delle Nazioni Unite. Queste conseguenze possono essere applicate senza il permesso del Consiglio di sicurezza da parte di qualsiasi Stato e le misure includono interventi militari. Gli stati nemici sono ex potenze dell'asse, ovvero Bulgaria, Finlandia, Germania, Ungheria, Italia, Giappone e Romania. È quindi evidente che la partecipazione dell'Italia agli organismi delle Nazioni Unite è vietata proprio per la mancanza del requisito delle condizioni di parità rispetto agli altri Stati membri. Questo mi sembra un concetto chiarissimo che ho anche trasmesso all'amico Blondet, Maurizio Blondet, il giornalista esperto di scandali di vario tipo, che spero farà un articolo su questa questione. E poi il secondo argomento, dicevo sono due gli argomenti, il secondo argomento non è collegato tanto al Global Compact, ma comunque sempre alle Nazioni Unite, perché in fondo il nostro organismo della sanità è sempre comunque collegato all'organizzazione internazionale, alla World Health Organization, all'organizzazione mondiale della sanità. e l'argomento riguarda l'Istituto Superiore di Sanità, come vedete sempre accanto alla mia immagine sul video, il Presidente Walter Ricciardi che si è dimesso da questo istituto superiore, che ora c'è un commissario e poi verrà fatto un bando pubblico per trovare un sostituto e perché l'articolo che appare sul Fatto Quotidiano cita appunto il fatto delle Iene e del Kodakons che avevano rivelato che questa persona aveva preso soldi dalle ditte farmaceutiche, in particolare dalla Pfizer e dalla KlaxoSmithKline, ma io penso che non si sia dimesso tanto per lo scandalo a livello italiano quanto anche perché è apparso un articolo su una prestigiosa rivista medica che si chiama British Medical Journal e infatti lo vedete, accanto c'è il pezzo sul British Medical Journal dove dice che un ufficiale superiore pubblico italiano affronta delle critiche perché non aveva rivelato i suoi legami con l'industria farmaceutica. Quindi questo discorso riguarda da vicino anche il problema di questa grande campagna sui vaccini che mi fa pensare di essere uno scampato perché io naturalmente ho avuto il morbillo come tutti nella mia famiglia da piccoli e non abbiamo mai sentito dire che qualcuno fosse morto di morbillo e invece oggi c'è una campagna terroristica, questo bisogna dirlo, che addirittura in altri paesi obbliga alla vaccinazione perché altrimenti non danno neanche la patente, neanche il passaporto, i documenti eccetera eccetera. Certo che se le basi di questa campagna terroristica si scopre che sono ricchi premi e cotillion garantiti dalle stesse industrie farmaceutiche che hanno necessità di liberarsi dei magazzini pieni di questi vaccini inutili, allora il discorso cambia. Tra l'altro non ho il tempo di farvelo vedere ma troverete in rete addirittura uno spot di propaganda sui vaccini fatto dalla nostra astronauta Samantha che fa particolarmente che deve divertire pensando che gli astronauti sono 50 anni che ci raccontano di essere stati sulla luna e invece a quanto pare non ci sono mai stati, quindi se il valore delle loro attestazioni equivale a questa campagna dove l'astronauta Samantha ci dice che il vaccino è come una tuta spaziale che ci garantisce contro le infezioni, insomma è tutto da ridere. Quindi concludo con la frase di Ennio Flaiano, la situazione è grave ma non è seria e vi saluto alla prossima puntata.